Ciao Ivan, buongiorno, grande sì. Ciao Aldi, ciao Alberto, buongiorno. Tutto bene? Ciao, ciao, ciao. Tutto bene, tutto bene qua, controllando i nostri order book di come va la giornata. Bene, bene, bene. Allora, stiamo registrando quello che di solito ogni giorno è la conversazione che abbiamo tra me, Alberto, Alberto Malini di Crypto Learners dall'Italia e Ivan Airoldi, Crypto Learners in Spagna. La nostra conversazione segreta che non vogliamo svegliare. Esatto, esatto. Non la svegliamo a nessuno perché è una conversazione segreta. Invece abbiamo deciso che la filmiamo così la mettiamo a disposizione di tutti. Conversazione su che cosa? Di cosa parliamo? Anzi, poi, noi ogni giorno... No, noi ogni giorno cerchiamo di analizzare il mercato, cercare di capire dove il mercato va, prevalentemente seguiamo e vogliamo sempre di più imparare quello che riguarda l'ecrito e noi siamo ancora più focalizzati solamente sul Bitcoin, quindi abbiamo deciso di non distrarci troppo dalle varie possibilità di iperguadagno, ma bensì prendere il Bitcoin che è il papà di tutte le altre cripto, dedicarci bene a conoscere il Bitcoin, come si muove il Bitcoin, come si muove il prezzo del Bitcoin nel mercato nel Bitcoin, quindi tutte le notizie correlate, le belle positive, meno positive, però ogni mattina facciamo questo, lo chiamiamo briefing... Sì, il nostro confronto di crescita, quindi ti stiamo aprendo le porte per... dato che sei un crypto learner anche tu, ti stiamo aprendo le porte per partecipare... È super segreto questo... È super segreto, sì, sì, anche perché si decidono le sorti del mondo qua, del nostro micro mondo, sì... Se facciamo questo, quanto tempo è, Albi? Ormai è un bel po', eh? Sì, 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 ci confrontiamo ogni mattina su come potrebbe... perché poi, cose importanti da dire, i nostri, quello che noi siamo per fare, solitamente non viene distribuito perché non siamo, non possiamo fare questo tipo di lavoro, non siamo, non abbiamo nessun titolo per fare questo tipo di lavoro, quindi noi ci scambiamo opinioni, e opinioni rimangono, non sono consigli finanziari, non sono niente di tutto ciò, ma semplicemente uno scambio di opinioni tra Ivan e Alberto, che sono persone che seguono le crypto ormai da diversi anni. Sì, 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 ci buttiamo dentro... Sì, sì, difatti, come hai detto te, piccolo disclaimer, tutto quello che ci sentirai dire non sono assolutamente consigli finanziari, ti invitiamo a fare le tue ricerche, a ragionare con la tua testa, noi non siamo consulenti finanziari, e quindi semplicemente facciamo quello per cui ci piace fare, ci divertiamo, ci appassiona, bravo, esatto. L'appassiona, ci divertiamo, poi sicuramente nel tempo avremo sempre più tempo per ricordare questa cosa, che ognuno deve e consiglieremo poi di trovarsi la sua strategia, la sua analisi, e cercare di farsi, come si può dire Aldi in italiano, farsi influenzare da diverse persone, perché ognuno deve avere la propria idea, ed ecco perché noi abbiamo la nostra. Sì, sì, bravissimo. Quindi dai, andiamo a bomba a vedere un po' quello che sta accadendo. Eccoci qua. Allora, utilizziamo TradingView come strumento di base per analizzare... qui dove siamo sul petrolio, magari ci buttiamo un occhio, ma non è quello che ci interessa in questo momento, volevamo andare a vedere nello specifico, invece, 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 il nostro amico, amato Bitcoin. Eccolo qua. Ok. Ok. Ecco, avevamo iniziato a parlare prima del discorso supporti e resistenze. Invece di ingrandirlo, Aldi, che purtroppo l'età avanza e vedo poco. Ecco. Eccolo, perfetto. Allora, analizziamolo così. Analizziamolo così, facciamo prima una piccola visione, anzi, partiamo da come si valutano le cose, partendo prima dal mensile. Time frame più grande. Time frame più grande. Allora, qui togliamo il volume, che non fa nient'altro che distrarci, in questo momento. Ok. Eccoci qua. E qui abbiamo, gli ho tracciati in precedenza, le varie linee più importanti, che sono supporti e resistenze, orizzontali. Noi stiamo lavorando, vabbè, una cosa su cui lavorano in tanti, questa è tipicamente price action, con analisi di quello che fa il prezzo, quindi il mercato, quotidianamente, o visto in questa maniera da un high time frame, quindi mese, e andiamo a vedere cosa accade sulla base delle linee più importanti, cioè supporti e resistenze. Diciamo, un supporto è quando il prezzo è al di sopra e quindi si va ad appoggiare, come questo ad esempio. In questo momento il prezzo è 9535, il prezzo del bitcoin in questo momento. Quindi questa linea qua sotto, che parte, lo vediamo dal primo di luglio del 2018, molto importante, come punto dove il prezzo ha avuto delle battute d'arresto in salita o in discesa, per il prezzo del nostro bitcoin questo per noi oggi è un supporto, ok? Quindi ci si può appoggiare o addirittura sfondarlo al ribasso. Mentre le linee che sono al di sopra sono chiamate resistenze, perché il prezzo quando va verso l'alto trova resistenza. E sono linee estremamente importanti, quindi ci danno un'idea di cosa sta accadendo e di dove può andare ad appoggiarsi il prezzo in salita o in discesa. Quindi entriamo su quello che... Quindi scusate se ti dà un po' a tempo... Dimmi, dimmi, certo... 7000, il supporto monthly, che hai tracciato tu? Bravo, allora abbiamo un monthly... Ecco, questo è un supporto molto vicino, mensile. 9000... 9.240 circa. Poi ovviamente io sto guardando analisi su prezzo bit stamp, exchange bit stamp. Ogni exchange ha le sue variazioni di prezzo sulla base delle chiusure, delle aperture, delle candele. Invece quello più sotto è 7000... Quello più sotto è 7000 e 750, 7,7. Difatti molti altri charter, analisti, trader lo considerano un supporto molto importante. La resistenza, andando in alto, per quel che riguarda il mensile è 13800. Per il momento siamo ancora ben lontani, ma prima o poi ci arriveremo sicuramente. Ma entriamo in quello che secondo me è un pochettino più juicy, più succoso come argomento, che è quello settimanale. Ok, quindi fammi magari togliere queste linee qui che ci confondono mensili. La rendo trasparente all'analisi dei time frame più corti. Questa anche. Visibilità. Ok. Ecco, molto versatile. Queste sono tutte cose, esatto, stavo dicendo, bravo. Queste sono proprio tutte cose che si possono fare con TradingView. Abbiamo fatto anche dei video su come si può utilizzare TradingView e quanto è importante, no? Quanto può essere utile per analizzare appunto il prezzo del price action. Sì, sì. Ecco. Ok. Ho lasciato qui nell'area che ci interessa, quindi vicinanza del prezzo, solo le linee orizzontali settimanali, quindi supporti e resistenze settimanali. Allora, quello che mi premeva vedere assieme era questa cosa qua. Ok. Guarda caso, questa è la candela settimanale che si andrà a chiudere questa domenica e quindi la successiva, come vedi, inizierà il 18 maggio, quindi lunedì prossimo. Guarda caso, il range in cui è stato questa settimana va proprio dal supporto alla resistenza e li ha già toccati. Questo cosa ci fa dire? Ci fa dire che, allora, a inizio settimana, per dire la verità, domenica c'è stato questo tocco del supporto, scusami, a volte poi li confondo, supporto e resistenze, ci devo ragionare, ha toccato il supporto intorno a 8100. Ci si è... non possiamo dire che ci si è appoggiato, l'ha semplicemente toccato con il wick della candela. Però da qua ha iniziato a fare il price action. Andiamo a vederlo sul daily, invece, questo. Sul daily... eccolo. Quindi sul daily l'ha toccato, l'ha quasi toccato qua, 8.070. 8.073. E da lì ha iniziato, giorno per giorno, a crescere sempre di più. E guarda caso, oggi, ha toccato la resistenza settimanale. Quindi è rimasto il prezzo perfettamente all'interno di questo range. Quanto è la resistenza settimanale? 9.590, Albi? Direi di sì, 9.580 circa. Difatti molti parlavano di un punto importante, 9.5. Ok. E qui siamo nel grafico a 4 ore, quello che, insomma, ci piace guardare un pochettino di più. Però è importante guardarlo, questo grafico a 4 ore, con la considerazione sul supporto e resistenze settimanali, ragionando all'interno della settimana, e giornaliero, daily. Ecco perché c'è chi dice che il prezzo comunque potrebbe comunque arrivare anche qua a toccare la resistenza, daily, a circa 10.000. Sfondarla credo che faccia fatica, però non si può mai sapere, cioè nulla è dato per certo nel trading, soprattutto nell'analisi tech. Ci siamo resi conto che nulla è scontato, assolutamente. E poi stiamo parlando, ragazzi, di Bitcoin. Bitcoin ha sorpreso, ci ha sorpreso e continuerà a sorprenderci per tantissimi anni. Quindi Bitcoin è relativamente nuovo, però sicuramente è tanto da imparare. Non è ancora un mercato così liquido come altri mercati, ad esempio coppie monetarie, Forex, o indici di borse, come lo Standard & Poor's, o altre grosse borse mondiali, come può essere, che ne so, Londra, Fuzzi o altre. Però sta crescendo e diventa molto interessante e si possono fare bei guadagni, ovviamente, sempre con una sana gestione del money management. Quindi tornando alla nostra price action, infatti ad esempio ieri ho chiuso un trade, ho chiuso il trade che avevo, ero entrato circa qua, dopo aver toccato il supporto daily, e ho visto che c'era comunque possibilità di salita per, secondo la mia idea, era che quello che è accaduto in settimana si potesse arrivare a toccare la resistenza settimanale. Sono uscito prima dal trade, guadagnandoci quasi un 70%, mi sembra una roba del genere, ma sparo a caso perché non mi ricordo, non l'ho fotografato. Sono uscito prima, avrei potuto lasciarlo correre ancora, però ho preferito quello che diciamo Ivan sempre è accontentarsi. Adesso quello che secondo noi potrebbe accadere è un rigetto di questa resistenza per andare giù verso il basso e diventa interessante vedere anche quello che accade sull'RSI. Qui abbiamo un canale ascendente in questo momento sul RSI, che conferma appunto l'aumento del prezzo. Quello che sto testando in questi giorni è la rottura dei canali, traccio individuo dei canali sull'RSI, e combino il price action, cioè il prezzo del bitcoin, sulla base del supporto e resistenze con quello che accade sul canale. Esempio, qua abbiamo un canale discendente, nel momento in cui rompe al di sopra della linea del canale discendente, il segnale diventa bullish, quindi di acquisto, e guarda caso qui come l'ha rotto, dopo c'è stato proprio possibilità di fare un bel trade da qua fino a qua, molto interessante, molto interessante. Onestamente questo non l'ho preso, non l'ho fatto, me lo sono segnato per testare cosa potesse accadere, ma personalmente non sono entrato. Differente invece qua, alla rottura, si è creato un canale ascendente, alla rottura a ribasso, qui come è iniziato a rompere, sono entrato nel trade short, e guarda caso mi ha dato ragione, è andata bene, perché poi si è creato un canale discendente, la rottura qui del canale ascendente in basso è un forte segnale bearish, ho shortato il venerdì sera, si era venerdì, e sabato mattina già abbiamo tirato fuori dei frutti, perché... Beh, il sabato notte è stato, no? Durante la notte ha fatto questo crollo del 14, c'è stato questo banto. Ha ritracciato, ha ritracciato, il sabato e la domenica, lo diremo spesso nel nostro canale, no? Crypto Learners, visto che siamo qua per imparare, il sabato e la domenica solitamente la liquidità che c'è nel mercato è inferiore rispetto a quello che c'è in settimana, quindi l'esperienza ci ha portato e ci ha insegnato che gli spostamenti spesso e volentieri nel weekend sono un po' più violenti rispetto a quelli che possono accadere in settimana. Infatti quello che io stavo pensando nella mia testa, Albe, è che ci arrivi, rimanga poi lì, o magari ci passi anche sopra, ragionando nel weekly, l'ha già toccata la resistenza, o la sta toccando o la toccherà a breve. Sì, bravissimo. E ripeta un po' quello che ha fatto settimana scorsa, ovvero domani e venerdì, oggi stiamo trasmettendo a giovedì, domani e venerdì, sabato e domenica, tracci. Bravo. Se deve invertire, può essere che faccia questo tipo di movimento come ha fatto settimana scorsa, no? Poi tu sei molto bravo a tenere, io ci faccio meno caso, ma tu sei molto bravo a tenere questa parte statistica, cioè capire i giorni della settimana, esatto. Il segreto è il giornalino. Iscriverti, bravo. Sei molto bravo a individuare i giorni della settimana dove ci sono quantomeno forti oscillazioni. Poi può essere magari in salito, in ribasso, però infatti di solito mi affido proprio a te e mi dici guarda oggi c'è possibilità di grossi movimenti e in effetti non è sempre così, perché ripeto, non accade sempre quello che noi pensiamo e da un lato questo è anche il bello, però sulla base dell'analisi tecnica, di quello che è accaduto in passato, di quello che, praticamente l'analisi tecnica ti rappresenta graficamente una sorta di indagine statistica, psicologica, stati d'animo di quello che è il mercato e aggiungo anche un concetto di fisica statistica, cioè di quello che accade a livello di macro, tradotto in piccolo e viceversa. Quindi la statistica aiuta tantissimo in questo caso. Assolutamente sì. Tu interrotto, stavi finito di dire qualcosa? No, 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 volevo farti una domanda. Una volta che arriva il weekly, alla resistenza weekly che ci hai disegnato a 9590, se la sfonda, qual è la prossima resistenza possibile dove potrebbe rallentare la corsa o eventualmente il rischio? Allora, bravo, se la sfonda, che ripeto, secondo me farà fatica a sfondarla, poi non è detto, può accadere di tutto, anche perché è raro che il prezzo sfondi direttamente al primo tentativo una linea di supporto e di resistenza. Un esempio che abbiamo proprio sott'occhio, eccolo qua. Qui, il 30 aprile, il prezzo è arrivato in prossimità della resistenza, tra l'altro una bella resistenza importante, settimanale, non l'ha neanche toccata, ha iniziato prima a ritracciare, poi pian pianino ha accumulato forza, accumulato forza, fino, quindi chiamiamolo secondo tentativo, qui l'ha sfondato, poi si è fermato poco più sopra. Guarda caso, anche l'ha sfondato, quindi la resistenza si è trasformata in supporto, perché una resistenza una volta che viene sfondata verso l'alto, poi offre supporto verso il basso, ok? Ma mi viene dubbio, sto confondendo supporto e resistenza? No, no, no. No, è così, ok. Cioè, ce l'abbiamo ben chiaro, ma purtroppo nella mia testa confondo i termini, le parole. Ok. No, no, no. Ecco, l'esempio che dicevo, anche qua ce l'abbiamo, primo tentativo, chiamiamolo tocco, o sì, si è appoggiato, touch, si allontana, un po' come la pallina che lanci contro il muro, no? Lanci la pallina, la pallina non si ferma e si incolla contro il muro, ma torna indietro. Torna indietro, a seconda della forza che può avere, c'era comunque voglia di andare in basso, ed ecco che al secondo tentativo ha sfondato. e con tutti i supporti e resistenze, nove volte su dieci accade nella stessa maniera. Poi, cioè, ci sono tante maniere per valutare sulla base della candela, a chiuso, a metà, sopra, ma quelle sono, non entriamo in questi dettagli per ora, ma è più avanti lì, dividiamo tutti quanti. Quindi, se sfonda, finisco a risponderti a quella lì, se sfonda, il prossimo punto di sosta è qua, sui diecimila. Come dicevo, secondo me, ci si appoggia e ritraccia verso il basso, ecco perché la vediamo oggi, tra oggi e domani, come possibilità di andare short. Quindi da qua, andare al punto successivo, che è questo, quindi shortare da novemila cinque, da adesso praticamente, novemila cinque e ottanta circa, fino a questo livello qua. Con uno stop loss, se voglio proprio stare largo, ecco, al di sopra qui del massimo, quindi sui diecimila e cento, che è il poco più su di questo week di questa candela, o se voglio stare un pochettino più più tirato, ecco, poco più su di questo rebounce che c'è stato. Quello dipende dal tuo money management e dal money management che vuoi applicare, quindi dal rischio che ti vuoi accollare sulla base della leva e del capitale totale che gestisci come trading. Ovviamente, ripeto, non sono consigli finanziari questi, sono valutazioni che stiamo facendo noi. Bravo, anche qua tu hai parlato di leva, poi ne affronteremmo e avremo sufficientemente tempo di parlare di di leve e come usarle e come non usarle. Attenzione, attenzione, se fate trading, specialmente all'inizio, con le leve finanziarie, con le leve che vi mettono a disposizione, che sono micidiali, lo spostamento dell'1%, se avete una leva a 10, equivale a 10 volte, quindi andiamo piano, specialmente nella parte iniziale, con le leve. Sarà un consiglio che daremo a noi stessi e a tutti. di seguireci. Domanda, quindi 10.022 diventa poi la successiva resistenza nel caso in cui ha abbastanza forza e lo sfonda, sotto tu stai lavorando con una strategia con i canali, no? Sì, sì. territorio, ovvero in un punto dove già è un po' troppo acquistato. Sì, sì. Sì, si chiama proprio tecnicamente, come hai detto tu, overboat. Quindi eccesso di acquisto. Anche se è una cosa che non è da prendere con le pinze. È da prendere con le pinze, perché come vedi anche qua, qui entra in overboat in eccesso di acquisto e il prezzo è 7.800 rimane in overboat fino e lo diventa sempre di più fino ad arrivare qua e il prezzo guarda caso da 7.800 arriva fino a 9.485 uno potrebbe dire ok, vado short o esco perché qui in overboat ti sei perso 1.500 dollari di incremento. Quindi questo lo diciamo perché tanti magari si fissano su questa cosa e è fatto bene a chiederlo a vedere questa cosa ma in realtà è sempre un po' da prendere con le pinze. In questo momento a sfondare la resistenza. Sì, sì, bravo lo vediamo in diretta guarda. Lo vediamo in diretta sta facendo questo pentatino di sfondamento all'esistenza. Sì, 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 esatto. Tornando al discorso del channel del canale dell'innovazione dei canali ascendenti o discendenti sull'RSI siamo al contatto con il la linea superiore del canale vediamo che succede ripeto secondo me secondo me è difficile che rompe il canale in salita poi può accadere di tutto è più probabile che va ad appoggiarsi in basso al canale e da qui stiamo a vedere se il prezzo continua ad andare su e quindi continua ad andare in overbought territori territorio di eccesso di acquisto e magari spinge il prezzo ancora più su fino alla successiva linea oppure rompe ed ecco che nel momento in cui rompe al ribasso diventa un momento ideale quindi c'è un dal mio punto di vista una conferma di segnale di di short per shortare per shortare e questo è un pochettino come come sto testando questa cosa in questi giorni e il test risponde sta rispondendo molto bene molto bene stai testando anche su altri asset o solo su bitcoin si sto testando anche su altri asset uno ad esempio è il nostro caro euro dollaro non è facile l'individuazione del channel di fatti poi di volta in volta va sempre un po' adattato su euro dollaro ad esempio non mi aspettavo che ritracciasse così siamo in una fase scendente di breve periodo e di fatti si è creato questo canale ascendente dopo la rottura di questo discendente qua sto facendo dei trade in demo per testare questa strategia sull'euro dollaro però mi sembra che i canali bravo i canali sull'euro dollaro funzionano molto bene bravo di questa cosa del consiglio e vogliamo dare quando si fanno dei test di nuove strategie o di nuove analisi è sempre meglio testarle con demo account quindi non con soldi reali e una volta che queste strategie sono diventate nostre sappiamo leggere il grafico sappiamo interpretare come si muove possiamo iniziare a pensare di mettere una piccola parte come dici tu money management a testare con soldi veri strategie perfetto la sto testando anche sull'indice americano standard in course 500 e ieri ha preso una direzione e qui abbiamo un canale ascendente iniziato molto tempo fa pensate un canale ascendente iniziato in pieno momento bearish e questo vabbè c'è da fare una serie di considerazioni adesso magari ci prendono un pochettino di tempo però guarda che me lo sto studiando da un po' di giorni qui c'è stata una rottura al ribasso in effetti è un pochettino ritracciato poi c'è stato un ritest poi io qui mi sono aggiunto anche i ritracciamenti fibonacci adesso magari spesso vedrete i miei grafici super con tanta roba messa assieme un consiglio che ci diamo a noi stessi è cercare di semplificare il più possibile però nel momento in cui fai dei test ovviamente hai bisogno di di combinare più strategie combinare più cose per andare a verificare ecco qui la cosa interessante di questo canale ascendente c'è stata una prima rottura qua si poteva entrare qui però non si prendeva un gran segnale perché c'era c'era poco margine poco margine di di manovra ma un'altra cosa che sto testando interessante è che anche l'RSI a volte si comporta un po' come il prezzo cioè sfonda va a fare un ritouch si appoggia ed è quello che è accaduto proprio ieri e di fatti ieri era un tratto short sempre in demo lo dico per per correttezza era un tratto short proprio per testare in demo sullo standard in course e mi sta dando mi ha dato ragione perché lo short è andato molto bene che ho chiuso proprio ieri sera in concomitanza dell'appoggio sulla sulla linea qua 05 Fibonacci e sul fatto che possa secondo me ricorreggere un pochettino per poi andare ancora più giù e creare un nuovo canale discendente infatti ci aspettiamo anche perché insomma i dati sull'economia americana sono disastrosi come su tutte le economie a livello mondiale per l'attuazione di questo momento covid-19 stanno pompando comunque soldi come i passi nel mercato facendo bailout di grosse aziende pompando soldi a livello di istituzioni di banche e questo sta tenendo ha tenuto su comunque il mercato in un momento dove a livello fondamentale ma anche tecnico non poteva fare altro che scendere quindi ha creato una sorta di mercato drogato fino a oggi un'altra un'altra velocemente poi dopo ritorniamo sulle sulle cripto lo sto testando anche sul petrolio perché li vedo sulle commodity anche sull'oro ho fatto dei test lo vedo molto bene l'individuazione dei channel è semplice poi non è detto che il prezzo risponda esattamente sulla base delle rotture tipo qua l'oro scusa questo è l'oro nero il petrolio qui ha rotto entrando qua short non 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 ci si guadagnava nulla anzi addirittura si rischiava di bravo addirittura qui rischiavi di essere swipe out liquidato esatto c'è da dire che però si è creato un canale discendente a bassa inclinazione e difatti il prezzo è sideways come anche il canale è quasi sideways cioè non è ben individuato in salita o in discesa come accaduto in precedenza andiamo a vedere un attimo ethereum cosa dici andiamo a vedere un attimo ethereum poi stacchiamo per non tenerlo troppo lungo esatto ok eccoci qua anzi andiamo qui che ho tracciato un po' meglio supporti e resistenze qui non ho tracciato il canale ma lo si può fare anche al volo trendline ecco qua parallel channel e di qui a sinistra è tutta una serie di strumenti su tradingview per per lavorare sui tuoi grafici allora allarghiamo intanto ecco abbiamo un bel canale ascendente come come ce l'avevamo anche su bitcoin e ethereum ha fatto un pochettino ha fatto un pochettino la stessa cosa che ha fatto ethereum in realtà scusa bitcoin in realtà si è appoggiato addirittura sulla sulla mantel su quella mensile ieri ha sfondato quella giornaliera a quella settimanale ci potrebbe arrivare alla resistenza settimanale c'è da dire però che se ritraccia il bitcoin è facile che ritracci anche ethereum che va un po' di conseguenza poi in questa fase c'è il bitcoin dominance è bello bravo e lui è bello tosto quindi un po' tutte le altcoin stanno stanno perdendo nei confronti del king del bitcoin si è sempre stato un po' così e dovrebbe contare ad essere dovremmo contare sul fatto che continui ad essere così anche perché l'hai detto bene un po' il king qui nel 4 hours nel 4 hours qui è sfondato appunto il la resistenza daily che si è trasformata in supporto stiamo a vedere stiamo a vedere stiamo a vedere è da studiare in questo momento per me è una no trading area ma potrebbe sì arrivare al weekly ma io non mi sentirei di aprire un trade long adesso in questo momento piuttosto piuttosto vedendo anche come va il canale se fa un ritouch rompendolo ritornando giù questo supporto resistenza daily ecco che tipo qua io entrerei tranquillamente short anche sulla base di quello che accade sul sul channel buona dai questo un pochettino grande analisi abbiamo fatto 35 36 minuti di analisi solitamente ci dedichiamo 25 30 minuti per guardarlo ottimo perfetto una cosa che noi vogliamo sempre ricordare vogliamo sempre dire l'abbiamo già detto un paio di volte questi non sono consigli assolutamente finanziari ma è un'analisi che facciamo per noi e vogliamo anche crescere come canale quindi se ti è piaciuta l'analisi che ha fatto Alberto lasciaci un bel like sul video sottoscriviti al canale in modo tale che ricevi poi le notifiche i video rimangono nel canale il funzionamento è un po' come tutti gli altri video rimangono lì quindi se non hai tempo di vederteli adesso li puoi vedere assolutamente in un altro momento perfetto quindi un bel subscribe e così tutte le altre volte che faremo queste analisi a voce alta a voce alta avrai la possibilità di partecipare grazie Alberto grazie a te Ivan grazie a te a casa che ci hai guardato ci stai guardando e come ha detto Ivan smash the button schiaccia il like e sottoscrivi subscribe al canale e grazie così di aver contribuito alla condivisione delle nostre idee ciao buona giornata ciao ciao ciao